Promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Herzlich willkommen bei 2M2. Wir sind heute auf Schloss Schenna und diese Tür hier, die ist wirklich recht außergewöhnlich, wie wir gerade gesehen haben. Der Hausherr Graf von Spiegelfeld ist auf dieser Seite hereingekommen und auf dieser Seite hinausgegangen. Und ich gehe wieder auf dieser Seite hinaus. Benvenuti ad un nuovo Appuntamento con 2M2. Siamo a Castel Schenna, vicino a Merano. No, questa è una porta decisamente particolare. Il padrone di casa, il Conte Spiegelfeld, è entrato da questo lato della porta ed è uscito da questo lato. Invece André ha scelto di uscire da questo lato. E allora io esco da quest'altra parte. Interessante, no? Ed è l'unica porta di questo tipo ancora funzionante al mondo. Volete sapere perché è stata realizzata una porta così? La risposta la trovate sul nostro sito internet. Grazie a tutti. www.biraforst.it www.biraforst.it